Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Ieri mattina, quando ho acceso il PC, mi sono reso conto che l'applicazione Adobe Creative Cloud, che raccoglie al suo interno tutte le altre applicazioni della suite Adobe, aveva l'iconcina lampeggiante a segnalare un aggiornamento. Quando sono andato a vedere quali fossero le applicazioni coinvolte, ho visto che erano proprio quelle di Lightroom, Camera Raw, insomma quelle relative alla parte fotografica. E guardando la scheda tecnica, la scheda di rilascio con quali fossero stati gli aggiornamenti inseriti, ho visto che c'erano proprio delle novità molto molto interessanti e di cui voglio parlare insieme a voi. La prima funzione migliorata, che è anche quella principale di questo aggiornamento, riguarda l'elaborazione delle immagini tramite la scheda grafica. Come forse alcuni di voi sapranno, perlomeno gli utilizzatori più assidui di Lightroom o di Camera Raw, perché alla fine condividono lo stesso motore, Lightroom e Camera Raw hanno bisogno di un processore molto molto veloce per poter funzionare al meglio, quindi sono dei programmi che si basano molto sulla CPU. La scheda grafica, perlomeno fino alla penultima versione, era relegata ad un utilizzo minore, veniva sfruttata solo nel pannello di sviluppo, ad esempio per i pennelli, filtri graduati, filtri radiali e pochissimo altro. Bene, con questo aggiornamento finalmente Lightroom va a sfruttare la scheda grafica in maniera più trasversale, per andare ad accelerare completamente tutto il modulo di sviluppo e anche il modulo libreria, anche se lì diciamo era meno importante il problema delle performance. Per vedere come si fa ad attivare ci spostiamo su Lightroom. Per attivare l'elaborazione grafica avanzata di questo nuovo aggiornamento di Lightroom, bisogna andare nel menu modifica e poi su preferenze. A questo punto spostarsi nella tab performance, che io vi ricordo ho la versione in inglese, però in quella in italiano credo sia stata tradotta così, comunque seguite l'impostazione, dovreste trovarla agevolmente. Dicevo, nella tab performance, nella prima sezione dovete controllare che sotto usa processore grafico sia selezionato custom o personalizzato, che dovrebbe essere la traduzione letterale in italiano. A questo punto controllate che sia flegata la voce sotto che dice utilizza la GPU per processare le immagini. E questo si applica solo alle fotografie che hanno una versione dalla 5 in su. Questa versione che cos'è? Adesso una volta che è flegato cliccate ok. Se voi andate a prendere un'immagine qualsiasi della vostra libreria e vi portate nel modulo di sviluppo, qua nella parte in basso di tutti gli strumenti, potete vedere che sotto il pannello calibrazione c'è versione 5, che è quella corrente e dovrebbe essere di default quella che viene applicata a tutte le vostre immagini. Se voi avete una versione precedente non c'è alcun problema ad aggiornare alla versione 5, che è l'ultima disponibile, perché semplicemente queste sono le varie versioni dei motori di Lightroom. Lightroom è camera raw di conseguenza per mantenere la compatibilità con le versioni precedenti. Al loro interno hanno tutti i vari motori di elaborazione che si sono susseguiti negli anni. Ad esempio, se io vado a impostare su questa foto versione 1, vedrete che intanto è cambiata la dinamica della foto, perché si basa appunto su come Lightroom processa il file raw. E anche qua, negli strumenti, vedete che abbiamo l'esposizione, recupero, luce di riempimento, neri, che è come erano chiamati questi strumenti nella primissima versione di Lightroom. E se io adesso vado a tornare alla versione 5, che è quella corrente, vedete che cambiano alcuni strumenti, si aggiungono delle altre voci, e qua ritornano le cose che conosciamo tutti quanti, alte luci, ombre, bianchi, neri, eccetera. Quindi quello che va a fare questa versione 5 è semplicemente portare l'immagine a essere elaborata con il motore più recente che ha Lightroom a disposizione, che è quello che va a sfruttare la scheda grafica. Ora, quello che vi posso dire è che in questo momento sto sproducendo un matrimonio proprio con Lightroom e dopo aver fatto questo aggiornamento ho notato una maggiore fluidità nel modulo di sviluppo. Non vi riesco a dare una percentuale, un numero di secondi o cose di questo tipo, perché sono delle cose a sensazione. Dopotutto è stata accelerata l'interfaccia nel modulo di sviluppo con cui si vanno appunto a sviluppare le foto. Non è, ad esempio, vado a esportare 100 foto, le cronometro e vi posso dire quanto ci metteva prima e dopo. Però vi posso dire che complessivamente lo trovo molto più rapido, reattivo. La cosa che molti utenti Lightroom lamentavano, e io in primis, è che dopo un po' che ci si metteva ad elaborare le foto, Lightroom diventava pian piano sempre più lento. i pennelli rispondevano più lentamente, il pennello correttivo ne aggiungevi uno, ci metteva un po' ad elaborare, ne aggiungevi un altro, insomma, molto molto più difficoltoso. Man mano che si andava avanti a elaborare, a quel punto la soluzione poteva essere di chiudere Lightroom e riaprirlo. Bene, con questo aggiornamento nulla di tutto ciò. E altra cosa che va a sistemare questa nuova versione che sfrutta la scheda grafica è il modulo libreria che viene accelerato e specialmente per chi come me ha un monitor ad alta risoluzione, io ho un monitor 4K e in questo caso l'utilizzo della scheda grafica è molto importante per generare tutte le anteprime che si vedono nel modulo libreria. Quindi da questo punto di vista, devo dire brava ad Adobe che finalmente ha capito e ha seguito l'input di noi utenti che alla fine a me personalmente piace utilizzare Lightroom e lo trovo uno strumento eccezionale per gestire grossi numeri di foto, grossi volumi come mi capita a me ad esempio con i matrimoni, battesimi o comunque facendo in generale fotografia di eventi in cui si devono elaborare centinaia se non migliaia di foto. L'unica pecca che aveva era proprio la lentezza e sembra che man mano con il tempo siano andati a correggere questa cosa specialmente con quest'ultimo aggiornamento hanno fatto secondo me un buon lavoro. La seconda cosa interessante che hanno aggiunto con l'aggiornamento, adesso andiamo a riprendere la scheda tecnica, è oltre a vabbè organizzare le raccolte con la scheda colore che secondo me è un po' una cavolata non ho idea dell'uso che se ne potrebbe fare probabilmente per chi usa molto molto le raccolte. Comunque nelle raccolte qua in basso a sinistra nel modulo libreria cliccando con il tasto destro sul nome della raccolta possiamo aggiungere un'etichetta colore esattamente come si poteva già fare sulle singole foto e dopodichè vedete io ad esempio questa raccolta aveva assegnato il rosso qua avevo assegnato il verde e si possono utilizzare anche per i filtri quindi se uno ha tante tante raccolte e preferisce organizzarsi le foto in questo modo può anche organizzarsele ulteriormente per etichetta colore ad esempio come so usare il verde per tutte le raccolte di ritratto il rosso per i paesaggi eccetera e poi fare delle ricerche in questo modo comunque non è questo l'aggiornamento di cui vi volevo parlare ma si trova nel modulo di esportazione quindi selezioniamo, lasciando selezionata questa foto andiamo su file esporta e a questo punto la cosa che potete vedere nel formato dell'immagine oltre al jpeg è comparso il png quindi abbiamo la possibilità di esportare direttamente da Lightroom le foto in png sia a 8 bit che 16 bit ora che vantaggio ci può essere? beh il png rispetto al jpeg è un formato compresso anche lui ma con una compressione che è senza perdita come forse vi ricorderete dal video ad esempio il confronto tra perché scattare in jpeg rispetto al raw il jpeg è un formato compresso con perdita che per risparmiare spazio va a buttare via tutta una serie di informazioni sul colore quindi ad esempio se abbiamo un cielo al tramonto con una transizione di colori a seconda della compressione che impostiamo nel jpeg potremmo avere delle bande colorate proprio perché per risparmiare spazio il jpeg è andato a buttare via tutte le informazioni sui toni sulla transizione graduale che invece c'era nell'immagine originale in raw questo invece non accade con il png di contro il png essendo un formato compresso però senza perdita riesce a comprimere meno l'immagine quindi tendenzialmente i file saranno più grandi grossi differenze a parte queste non ce ne sono magari il png può essere più indicato quando ci sono delle grafiche, delle scritte, delle linee nelle foto rispetto al jpeg comunque il fatto che abbiano aggiunto questa opzione secondo me è interessante per poter fare questa esportazione direttamente da Lightroom per chi fosse interessato mentre prima doveva passare che ne so da photoshop o strumenti analoghi un altro aggiornamento che è stato fatto riguarda l'unione in batch di panoramiche e HDR come forse saprete direttamente da Lightroom si possono andare a creare HDR e panoramiche però fino alla versione prima di questa quello che si poteva fare era farlo uno per volta quindi ho ad esempio le 5 foto di un HDR le vado a selezionare tutte e poi vado a scegliere l'opzione per dire a Lightroom di andarmi a creare l'immagine finale HDR stessa cosa con il panorama bene, con questa versione è possibile se noi abbiamo scattato ad esempio 10 panoramiche nella stessa giornata abbiamo fatto una bella gita in montagna abbiamo 10 panoramiche che vogliamo creare andiamo per prima cosa a selezionare tutte le foto e ad unirle in uno stack quindi metterle insieme in modo che Lightroom le possa raggruppare e si fa adesso qua lo faccio su delle altre foto ma giusto per farvi rendere l'idea di come si fa si selezionano tutte le foto dopodiché con il tasto destro si va a cercare stacking che appena sotto crea copia virtuale non so come l'abbiano tradotto in italiano stacking vuol dire letteralmente impilare quindi potrebbe essere un termine simile e gli si va a dire raggruppale in uno stack in una pila e qua nella libreria la potete identificare dal fatto che nell'angolo in alto a sinistra della foto è indicato che queste foto fanno parte di uno stack di un gruppo di foto impilate e c'è anche il numero delle foto al suo interno bene, se noi facciamo questa cosa per tutte le panoramiche o gli HDR che vogliamo andare a creare a quel punto le possiamo selezionare tutte le, guarda lo facciamo con un altro che così magari ha ancora più senso andiamo qua, group into stack eccole qua prendo le due, i due stack quindi i due gruppi ci faccio clic con il tasto destro e a questo punto se vado a selezionare foto merge qui a metà quindi unisci le foto vedete che mi lascia selezionare panorama ora a questo punto mi ha detto due operazioni di unione in panorama sono state aggiunte alle operazioni ora non ho la più pallida idea di cosa ci salti fuori con delle immagini di ritratto prese a caso comunque avete capito il senso prima lo dovevate fare gruppo per gruppo quindi panorama per panorama in questo modo una volta che avete raggruppato tutte le varie foto e potete andare semplicemente a lanciare l'operazione insieme e andarvi a prendere un caffè perché a seconda del numero di panoramiche andate a creare della velocità del vostro pc potrebbe metterci qualche minuto ma dopodichè vi ritroverete le vostre panoramiche o i vostri HDR tutti già fatti all'interno della libreria e anche questo secondo me è molto comodo tutte queste cose vanno comunque a velocizzare un po' il flusso di lavoro e l'ultima cosa che è stata aggiunta ma qui vi lascerò in ogni caso il link sotto in descrizione con il riepilogo di tutte le funzioni aggiornate in questa versione di Lightroom riguarda supporto per nuovi obiettivi e nuove fotocamere andatevelo a vedere magari c'è l'obiettivo che prima avevate non era supportato è stato aggiunto all'elenco ok ragazzi bene con questo è tutto per il video di oggi che spero vi sia stato utile per lo meno per scoprire che cosa c'era in questo nuovo aggiornamento di Lightroom faccio i nuovi complimenti ad Adobe perché finalmente sembra che stia seguendo le indicazioni degli utenti fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto se il video vi è piaciuto lasciatemi un like condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao